Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche. Se sbagli sotto lì, sta di velocità sotto lì, lo metti un po' per vedere. Basta! Chi è che chiama? Chi è chiama? Chi è? un primo, un secondo, il terzo e quarto comincia a piangere se vuoi favorire è una difesa che mi crea un problema